Poi questa è la sua ultima opera, ed è una sorta di testamento e di riflessione amara, ma non solo sul teatro, in questo caso sulla scultura, ma proprio sul fare delle cose di creazione in generale. La storia è molto semplice. Uno scultore aveva una modella con cui ha fatto un'opera di grande successo, La Resurrezione, dove c'era una modella che saliva verso il cielo e partiva da una base terrestre dove c'era la melma e gli uomini un po' contemporanei, un po' bestie, con le corna, maiali, mamelle di vacca, dice lui. Cosa succede? Che nella sua opera ha successo, ma ha successo il piedistallo. Lui diventa famoso nel mondo per il piedistallo, non per la Resurrezione. E quindi è una amara riflessione. È un po' come un musicista che fa, secondo lui, il pezzo più bello che ha fatto, poi fa il lato B per riempire in 5 minuti e il lato B ha successo. E quindi è una riflessione su, probabilmente su se stesso, ma sul mondo dell'arte in generale. Grazie a tutti.